facebook croce delizia dei nostri giorni ma pubblichiamo foto pubblichiamo post sì ma le immagini che dimensioni devono avere aspetta forse no troppo larga ma mi si vede solo una parte ragazzi niente paura oggi vi farò vedere come fare delle copertine del diario perfette oppure delle copertine evento per le vostre feste per i vostri concerti insomma tutto quello che fate e naturalmente anche la foto del profilo siete pronti? let's get started bene eccoci come al solito all'interno della dell'interfaccia di photoshop quella che vedete è l'intero dell'immagine che poi verrà sezionata o se non altro a livello solo di di righelli per farvi capire in quale modo i vari dispositivi vedranno la vostra immagine immagine che nel totale di 8,20 x 360 ora attiverò anche la modalità colore così potrete vedere le varie aree intese in a livello proprio di visualizzazione bene ora vi spiegherò che cosa vogliono dire queste queste aree colorate il totale quindi è l'8,20 x 360 pixel è una zona sempre visibile quella che vedete bianca quella all'interno del riquadro bianco quindi visibile sul cellulare e pc desktop ora vi farò vedere invece in questo modo che le barrette azzurre quindi le barrette più leggere quindi colore azzurro più chiaro sono visibili anche sul cellulare con un'altezza di 24 pixel invece con il discorso dei colori blu saranno visibili sul cellulare pc desktop oltre al cellulare anche sul pc quindi quell'area che vedete praticamente è visibile su pc quella blu quindi la parte blu insieme alla parte bianca invece sul cellulare sarà visibile anche con le barrette celesti in alto ora che andremo a fare praticamente ora andremo a a comporre un'immagine a farvi vedere come come poter fare insomma a livello di così di esempio una copertina per quel che riguarda facebook comunque le misure che abbiamo antecedentemente detto io prendo un'immagine a caso adesso la incollo la riposiziono all'interno della all'interno della dell'immagine generale l'immagine totale ricordando il discorso che vi ho fatto prima ossia che il quadrato che voi vedete eh delineato dal dagli incroci del quattro delle scusate eh uno due tre quattro vedete delle righelli praticamente l'interno di quel quadrato è sempre visibile quindi sia per pc sia per cellulari e lo vedete dappertutto ora posiziono l'immagine in questo modo c'è qualche elemento decorativo all'interno cerco di ridimensionarla in questo modo in modo che la parte centrale ossia quella più importante eh abbia la visualizzazione totale eh abbia la visualizzazione totale ora seleziono una parte visto che il colore è unico eh seleziono e col ctrl t allargo e lo estendo fino al massimo eh della visualizzazione la stessa cosa andrò a fare nel lato destro come in questo modo stando attenti di non prendere la parte rosa sullo schermo e quindi la trasformazione ctrl t e allargo anche in questo modo ora andrò a posizionare altri elementi sopra sopra questa immagine primaria e in questo caso ho scelto questa ballerina che sembra molto carina molto gradevole e graziosa quindi seleziono il totale copio e incollo ecco qua quindi con le scorciatoie ctrl c ctrl v ora vedete che la ballerina è al centro ma risulta tagliata sia eh sulle gambe che sul braccio quindi rimpicciolisco il tutto ecco qua facendo in modo che visto che io voglio essere sicuro di poter vedere tutto il soggetto su qualsiasi dispositivo quindi ripeto eh mobile e oppure pc desktop posizionare posizionare scusate la ballerina in modo che la visualizzazione sarà totale ora seleziono un altro elemento in questo caso questo fiore vado anche in questo caso a copiare farò una cosa diversa sposto il file quindi l'immagine trascino il livello del fiore sull'immagine destinata ad essere la copertina di facebook la posiziono facendo anche qui attenzione a far sì che l'area centrale risulti quella principale rimetto in dimensione ecco qua ho centrato in questo caso su con la eh dove combaciano e dove c'è l'intersecazione dei due delle due linee dai righelli ecco qua ora raddoppio il livello posiziono la il fiore da st'altra parte per fare una eh un gioco di forme eh anche in diagonale e applico in questo caso applico il filtro per poter modificare il colore ricordatevi di spuntare sempre eh di spuntare sempre se volete che il filtro in questo caso scusate che eh la diversificazione del colore con eh la proprietà del livello eh possa essere applicata al solo livello sottostante ricordatevi di cliccare il l'iconcina a sinistra che ho cliccato prima ecco qua che abbiamo cambiato colore ora applicherò anche al fiore a quest'altro fiore la saturazione tonalità saturazione anche qui ho appena cliccato avete visto in basso a sinistra il l'iconcina per poter eh far sì che la tonalità saturazione vada ad applicarsi solo al fiore e quindi al livello sottostante in questo caso il fiore che adesso è diventato eh quel colore lì sul viola eccola vedete porto per esser sicuro la ballerina soprattutto e la sposto vedete la posizione in una in modo che magari sia eh gradevole ma lasci anche lo spazio per poter scrivere ora seleziono il fiore quello che andrò a fare in questo momento è eh far ritornare il giallo al centro quindi creiamo una maschera eh vi farò anche un'altra lezione per tutta su quel che riguarda le maschere e in questo caso la maschera applichiamo per poter far vedere la parte sotto facciamo sì che la maschera sia tutta bianca come in questo caso in modo che mostra tutto e andiamo a cliccare con il con il nero laddove c'è la parte centrale del fiore stessa cosa l'abbiamo fatta eccola qua anche sull'altro fiore eccoci ora andremo a scrivere qualcosa in modo che tanto per eh tanto per poter eh dare un senso eh o un evento o un qualcosa insomma per quel che riguarda ah una cosa importante l'evento ha una misura diversa e quindi mille due per sei ventotto quello che quello che vi sto facendo vedere ora è ehm la creazione di una copertina eh del diario di Facebook quindi attenetevi a questa a questa misura ora cerchiamo di trovare un font che più si aggrada con il contesto dell'immagine sto facendo vediamo un po' vediamo un po' ehm vediamo se possa essere vediamo cosa c'è sì facciamo uno stile vintage come in questo caso ah una cosa importante non mettete una valanga di font perché a livello di di eh come si dice eh di gradevolezza visiva eh e quel che riguarda eh anche il discorso della tipografia praticamente eh due font sono più tre al massimo quindi non eccedete con i font sennò viene fuori un pastrocchio che non che non finisce più ora come vedete ho do una una visualizzazione diversa a livello in modo che vada a vada a sovrapporsi con lo sfondo quindi con le immagini di sfondo come in questo caso sto facendo alcuni test come vedete ma penso che quasi quasi eccolo qua forse questo è quello migliore ora andiamo 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 magari a scrivere un'altra cosa andiamo magari a scrivere un'altra cosa scrivo tanto per scrivere ragazzi quindi non è una cosa che e questo qua lo posiziono in con un carattere eh più piccolo sempre più piccolo come dimensione fonte e lo posiziono leggermente sovrapposto che è una è un gioco che mi piace molto ora magari proviamo a fare una colorazione attraverso lo stile livello e lo coloriamo magari con un viola che è quello della del fiore oppure seleziono come in questo caso un campione colore dal da un oggetto all'interno dell'immagine in questo caso ho selezionato una parte quindi un punto colore del fiore a destra fate alcuni spostamenti vedete insomma dove può essere piazzato miglior modo come in questo caso eccolo facciamo alcune prove adesso come in questo caso in questo caso che magari provo a ecco a fare un gioco del genere vediamo si fanno tutti i tentativi comunque bisogna andare sempre per tentativi eccolo ecco ora facciamo l'esportazione esportazione per web mi raccomando questo è il peso delle immagini eh quindi eh tenete presente che la velocità di visualizzazione del caricamento eh va sempre considerata eh in questo caso eccolo qua eccolo qua in linea di massima si salva o in png24 oppure in jpeg in questo caso salvo in jpeg e andiamo a caricarlo eh andiamo a caricarla su facebook eh il profilo che vedete il profilo che ho eh come con il mia il mia clubbing e vi farò vedere una prova di quello che è di quello che vi dicevo prima ecco la totalità dell'immagine questo è un'immagine vista da pc da pc quindi se vi ricordate bene le dimensioni di prima potete vedere che la parte blu che era blu ai lati e la parte bianca centrale è totalmente visibile per chi adesso ve la rifaccio vedere ecco qua vi ricordate la parte sopra celestina che era visibile solo sui cellulari sul mobile infatti come potete vedere non si vede in quest'area non si vede non è visibile allora avete visto come si fa ora non più foto tagliate eh scherzo ragazzi seguitemi iscrivetevi al canale se vi è piaciuto mettete un bel like seguitemi su marcopallotto.it naturalmente qui su youtube facebook e instagram e pinterest e twitter e tutto quello dove potete trovarmi naturalmente se avete domande da fare non esitate a farle perché io sto qui a rispondere e naturalmente buona visione a tutti e buon proseguimento al prossimo video ciao ciao